ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come avete capito dal titolo un video recensione per quanto riguarda questo aspiratore promed di passione unghie vedete qua c'è sta passione unghie nel fan di passione unghie allora questa recensione sarà breve credo perché non devo dire tanto allora forse lo faccio un po subito la recensione nel senso che la prima volta che l'ho provato è stato ieri su mia mamma allora che dirvi come prima impressione allora prima di dirvi di lui di farvi la recensione io prima avevo l'aspiratore quelli classici normali no normali che c'è l'aspiratore qua no c'è il cerchio c'è sta la ventolina e cazzi ammazzi e con quello veramente io avevo polvere dappertutto avevo polvere addosso a me sulla maia avevo la polvere sulla lampada qui non c'è nessuna polvere avevo la polvere sulla fresa insomma dappertutto lo lascio asciugamanino questo qui scusatemi ma è ora che lo metto a da lavare queste sono tutte macchie non è polvere tutte macchie rimaste vedete ok quindi lo metterà lavare e quindi avevo con l'altro aspiratore e con quell'altro aspiratore qui mi sono macchiato con qualcosa e con quel altro aspiratore non c'è mi ero stufata mi c'era trovata malissimo perché comunque quelli classici normali ma ve giuro la polvere dappertutto qui ho la lampada ogni volta che lo accendevo qua mi veniva su tutta la polverina cioè ero proprio piena me l'ho stufata sinceramente con questo aspiratore si espira polvere ok benissimo e con questo aspiratore invece mi ci sono trovata che una bomba mi ci sono trovata benissimo io infatti qui non l'ho pulito vi ho lasciato la polvere ve levo la griglietta questa è la polvere che è rimasta proprio tutta qui dentro ovviamente esce un pochino qui fuori ci sta ok è normale credo penso però almeno non ho la polvere dappertutto guardate la lampada cioè io la lampada qua guardate non c'è nessunissima polvere era piena proprio di polvere vedete qui pure se rialzo qui normale che tanto va qua un pochino e poi basta c'è nel senso non vedo in giro altra polvere sotto guardate non c'è nessunissima polvere a parte qui vabbè ma un po è normale c'è sta perché comunque tanto li mando lunghi a doppio me sposto me faccio con la mano poi sentito io lo metto un po più qua quindi non ma se dico qui non sto proprio insomma al centro qua è normale che dopo la polvere vada per tutto di vista di cerca anche un credo io perché ho fatto caso ieri facendo la mia madre stavoli ma che stavo qui non stavo in mezzo sta un po più qua la polvere me andava tutta di qua ovviamente perché non stavo bene al centrata qui insomma che la ventola può aspirare benissimo la polvere quindi secondo me dipende anche come uno si mette come posizione credo però io vabbè io perché c'è il vizio comunque devo spostarmi devo girarmi quando limo io sono casì c'è in casì nel senso perché ciò da lima sto concentrata quindi intanto mi sposto no è normale e infatti non l'ho pulita apposta proprio per farvelo vedere questa è tutta la polvere e ho notato proprio che quando io limo l'unghia proprio si vede proprio la polvere che va verso giù ovviamente che l'aspira proprio invece quell'altro però che andava verso su la polvere non mi aspirava più di tanto parte da anche tanti anni che ce l'avevo quell'altro però comunque funziona ancora infatti ho l'ho imballato dentro la scatola lo metterò in garage un'altra volta è questo messo di essere rompe famo le corna c'è uno di riserva comunque però io ragazzi sinceramente adesso questa vabbè non la metto ve lo lascio così dopo alla fine la metto la griglietta e sinceramente con questo aspiratore promed e allora è costato 114 euro e 98 credo comunque 115 euro per adesso vi posso dire che li ho spesi bene per adesso perché comunque per adesso sì è vero che è la prima volta che lo uso restato su mia mamma però comunque mi sono trovata bene quindi o per adesso ve lo consiglierei per adesso però io volevo aspettare anche un po di tempo prima di consigliarvelo proprio effettivamente che comunque 115 euro è un bel prezzo insomma no non sono non sono spiccioletti insomma e quindi ti petirà anche il culo diciamola così che ovviamente se prendi un aspiratore e sto prezzo qui ok non è che costa mille duemila euro come quegli altri dei passi di unghie ovviamente però 115 euro deve fare il dovere suo e per me lo ha fatto perché guardate c'è la polvere proprio sta tutta qua sinceramente mi sono trovata bene l'unica cosa che ci sono rimasta male che se andate a vedere nel video precedente qualche ragazza e le ringrazio tantissimo sono state tre ragazze perché l'ho detto nel video precedente quando ho fatto il video se qualcuno aveva promed e di passione unghie se mi scriveva sotto nei commenti come ci si trovavano e io le ringrazio proprio infinitivamente ci sono rimasta male soltanto che mi hanno dato tutte le risposte negative riguardo a questo aspiratore perché tutte mi hanno detto tutte e tre poi non è che dice una sai questa quella gli fa cuscì sono tre persone un pezzo che dice nelle cavolate no mi hanno detto che praticamente dopo un po c'è all'inizio loro pure tutto cottente da questo aspiratore cazzi ammazzi eccetera eccetera e però mi hanno detto che col passare del tempo anche su una pulisce insomma il filtro anche dietro e cazzi ammazzi ha detto la polvere te comincia andare dappertutto a sporcarti la lampada la fresa la lampada quella per la luce insomma la scrivania dove uno lavora al posto di lavoro insomma detto che fa un casino dappertutto e tutte e tre scusatemi tutte queste tre ragazze me l'hanno detto e ci sono rimasta un po delusa dico cacchio ero partita tutta contenta di prendermi questo che comunque ho visto le recensioni sul sito su passioni unghie tutti dicene che ottimo non lascia nessuna polvere sul gruppo eccetera 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 io cacchio allora me lo prendo quindi ero tutta contenta ecco però non lo so pensa quei determinate ragazze fa così a me no che cavolo ne so io per adesso l'ho fatte su mia madre guardate quanto ho limato perché colima proprio la mia bacchetta magica la nostra la lima per noi unico tecnico come sappiamo tutte e ho limato tanto che guardate che roba però vedete rimane tutta richiusa qui dentro io quindi ragazzi per adesso io mi ci sono trovata bene con questo aspiratore ancora non ve lo consiglio col fatto perché queste altre ragazze mi hanno detto che loro dopo non ci sono trovate più bene col fatto che passare col tempo dopo ha cominciato a polvere andare dappertutto quindi vorrei aspettare prima di consigliarvelo quindi tra un mesetto casomai ve lo dirò come mi ci sono trovata mano a mano facendo le unghie facendo le clienti a me insomma mia mamma chi sia e niente poi casomai vi dirò se ti consiglio se ve lo consiglio o meno che non voglio consigliarvi una cosa che dato che costa tanto che poi dopo non va bene e ci sono rimasta male solo di quello preste ragazze cioè sono contentissima che mi hanno risposto mi hanno detto comunque ovviamente la verità cioè voglio di non voglio le bugie e quindi sono contenta che mi hanno risposto e quindi vi mando un bacio a tutte e tre ragazze un bacio grandissimo grazie mille per avermi risposto nei commenti di quello che vi è successo con questo aspiratore ed è quello che ne pensate e quindi niente ragazzi finisco qui con questa recensione che devo dirvi io vi ripeto io per adesso mi ci sono trovata bene dopo devo capire bene come pulire il filtro le varie di dietro devo leggermi bene il libretto illustrativo io adesso ripeto qui la polvere ho lasciato per far vedere che comunque sta qua c'è in giro non c'è c'è un pochetto qui perché comunque mia madre stava così dopo tocca ovviamente quando te limmi le unghie le mani è impolverate un po io guanti pure in casino impolverati è normale tanto sto qua limo la polverina me va qui nei dita normale quello però comunque da altre parti non mi pare di vedere altra polvere cioè io per adesso mi sono trovata bene sperando che con il tempo non fa anche a me lo scherzo che hanno fatto a queste ragazze speriamo di no comunque ormai soldi stati spesi ce lo teniamo per di però certo tira il culo che andava spende 115 euro che poi dopo passa col tempo che trovi la polvere per tutta altra volta come quello vecchio su punto risparmiavo e prendevo altre robe per altri colori altri gel e me lasciava l'aspiratore che c'evo prima però sicuramente dato che questo è un aspiratore come vedete chiuso né aperto come quelli vecchi c'è anche la griglietta comunque rimando rimando questo aspira tanto e va giù la polvere quindi alla fine questo sicuro è molto meglio di quelli classici e almeno per come la vedo io e e niente insomma questo e comunque con le ragazze vi ringrazio ancora per avermi risposto se volete commentare anche questo video commentatemi e io parlo anche a nome di altri cioè non che parlo a nome d'altri ragazzi chiedo ad altri ragazzi che hanno il promede di passioni unghie anche ad altre ragazze che vuoi sapere altre opinioni di altri ragazzi ora oltre a questi altri ragazzi per sapere se effettivamente se altre se a queste tre scusate mi sto in cia cia per se a queste tre non gli va per di invece ad altre cinque dieci una una solo una persona e vabbè che una bomba ci si trova benissimo anche dopo tanto tempo quindi voglio sapere qualche altre opinioni di altre ragazze nuove insomma quindi mi raccomando scrivetemi sotto questo commento questa recezione fatemi sapere chi è che ha il promede di passione unghie mano a mano col tempo se anche loro hanno avuto lo stesso problema ad altre ragazze che usciva fuori alla fine la polvere o no e io niente che dirvi vi lascio qui io spero che il video vi sia stato utile e vi è piaciuto quindi mettete pori in su io la grietta aiuto la rimetto anzi no non la rimetto perché tanto io devo da una botta mi raccomando date una botta con una pezza ovviamente non bagnata è mi raccomando perché mi eccomi e vi stavo dicendo con una pezza non bagnata ovviamente che tanto roba elettrica casomai con un panno asciutto date tutta c'è da buttate via tutta sta polverina insomma ecco e e niente casomai se qualcuno di voi anche sotto i commenti mi sa dire come tipo questo qua il filtro questo qui lo dopo lì no lo devo lasciare a cucina questo mi sa che non si pulisce se lascia così perché questa deve cosa la polvere mano mano quando si rovina ne mettete un altro lì dietro che c'ha questo praticamente chiudevo le va che non so come se ne va e come se pulisce il filtro se qualcuno me lo sa dire uno scrive sotto i commenti a parte dopo leggerò il libretto illustrativo però se tante volte ci capisco una mazza intanto non ve lo dico a voi se me potete scrivere sotto nei commenti come se pulisce il filtro ecco e vi ringrazio anche di questo niente vi saluto vi mando un enorme bacio mettete un pollice su mi raccomando seguitemi su instagram come greta nils e anche su facebook comunque avete tutte le tre icone sulla copertina del mio canale comunque a destra giù in fondo a destra e per chi non si è iscritto si iscrivesse al mio canale io niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video mi raccomando commentate ciao ciao